Buongiorno, mi chiamo Cristina, sto seguendo il corso di Rigidio sui lievitati, mi trovo molto bene. All'interno di questo corso ci sono dei video dove lui spiega molto bene come si fanno a fare tutte le cose, dai croissant, dalle brioche, ai craffen e tutto. Inoltre ci sono anche le ricette e poi c'è una parte che riguarda la spiegazione sulle farine, sui vari tipi di farine, sui vari tipi di burro da usare e anche le temperature all'interno dei lievitati. Sono molto contenta, è la prima volta che faccio questo corso, le ringrazio tanto lo chef, inoltre volevo ringraziarlo anche perché è stato molto disponibile, qualora avessi avuto bisogno ho potuto telefonargli e lui appena ha potuto mi ha richiamato e mi ha spiegato alcune cose che non capivo e la ringrazio tanto di tutto.